Che cos'è l'innovazione? Alle volte si tratta di un'intuizione, altre invece è una sfida. In un mondo in continua evoluzione, per dare forma al futuro, occorre immaginarselo, attraverso esperienze avanzate che ci fanno vivere il domani. Nel cuore della Motor Valley, nella sede di Innovation Farm di Fornovo di Taro, nasce il Demolab IoT, un polo formativo ad alta specializzazione che sperimenta le tecnologie e le professioni del futuro. Perché l'innovazione è il motore che accende il cambiamento. E il cambiamento ci permette di crescere. Insieme. All'interno di Innovation Farm, grazie alle nostre partnership con Cisco e PTC, abbiamo sviluppato Demolab IoT, uno spazio dove le aziende possono toccare con mano le tecnologie di domani. Già oggi, provando in anteprima l'esperienza di una fabbrica 4.0 per sperimentare ed acquisire nuove competenze. Come? Attraverso quattro esperienze innovative. Augmented Reality, per gestire il supporto e le operazioni di manutenzione ed assemblaggio grazie alla realtà aumentata. Smart Factory, per creare una connessione tra le macchine, monitorare il loro funzionamento e comandarle da remoto con l'Internet of Things. Remote Expert, per consentire la gestione da remoto di tutti i livelli di formazione con il supporto delle tecnologie di collaboration. Cyber Security, per garantire protezione completa dei dati dei propri sistemi di fabbrica da possibili attacchi esterni con soluzioni avanzate di sicurezza informatica. Il futuro del lavoro è già qui e noi siamo pronti a mostrarvelo. Promuoviamo la digitalizzazione, l'innovazione e la formazione. È questa l'idea alla base del nostro progetto, per dare forma al cambiamento in quello che chiamiamo futuro. Demolab IoT, un nuovo acceleratore di innovazione. È pronto per te. Grazie. Grazie. Grazie.